Abbiamo presentato una digital platform PSP che è una piattaforma web based che ha l'obiettivo di mettere in connessione stakeholder dell'ecosistema salute che va a creare un servizio per un paziente in trattamento con farmaci per patologie croniche orare dove essendo tanti gli attori il problema principale era quello di permettere il dialogo tra gli stessi attori e in particolare tra il paziente e i singoli dal medico curante agli infermieri che noi inviamo al domicilio, alla casa farmaceutica, a noi stessi centrale operativa che siamo in connessione con i pazienti e li seguiamo, li assistiamo, ricordiamo la terapia e attiviamo tutti i servizi necessari. Il beneficio è immenso perché in realtà è la messa in condivisione tra stakeholder e quindi attori di un sistema piuttosto complesso di gestione dei pazienti messi in rete e quindi in connessione dando a loro la possibilità di avere accesso in tempo reale ai dati necessari naturalmente secondo il profilo privacy che ciascuno di loro ha e permettere il miglior servizio a dei pazienti che sono effettivamente pazienti con patologie severe quindi dove l'esperienza quotidiana può essere profondamente migliorata e alleggerita rispetto all'onere e alla gravità della loro condizione. Grazie 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 Grazie